Hanno esumato nostra nonna senza alcuna comunicazione. La denuncia arriva da due fratelli paganesi, Chiara e Maurizio Trionfo, che si sono rivolti alla nostra emittente per denunciare quanto accaduto martedì mattina al cimitero di Pagani. I due ragazzi si sono rivolti anche ai carabinieri e alla polizia locale. È successo che lunedì venne mio fratello qui al cimitero per mettersi d'accordo per lo scavo di nostra nonna e loro ci diedero un baglia da pagare, da rispettare e dissero poi ci mettiamo d'accordo per la data. Martedì mattina loro chiamarono mio fratello e dissero così che stavano facendo lo scavo. Il mio fratello disse no non toccate niente perché io ieri sono venuto per metterci d'accordo. Poi siamo venuti, siamo andati a vedere, già era fatto tutto, né presenza e senza autorizzazione, hanno fatto tutto. E niente abbiamo chiamato i vigili, sono venuti, sono venuti sul posto, hanno fatto tutto quello che dovevano fare, abbiamo fatto una denuncia e loro hanno detto che hanno sbagliato. Se loro avevano un'autorizzazione noi alzavamo le mani però loro non avevano niente. Noi non vogliamo niente, vogliamo soltanto che loro non lo fanno ad altre persone. Si deve rispettare perché poi se mio fratello non aveva rimasto il numero loro comunque avevano fatto tutto senza chiamare nessuno e noi poi quando venivamo qua non trovavamo più niente. Il responsabile dei servizi cimiteriali Alfredo Amendola che abbiamo raggiunto telefonicamente dal canto suo parla di un mero difetto di comunicazione.